La Fondazione Opera Santa Rita pronta a trasferire una parte della propria attività nel Convento dei Cappuccini, lo storico complesso del 1500 che si trova all'inizio della salita dei Cappuccini in via Diaz. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato l'accordo che prevede la cessione del convento alla Fondazione per i prossimi 30 anni. I frati Cappuccini, che si sono trasferiti a Firenze pur mantenendo alcuni impegni pastorali in città e non mancando mai l'appuntamento con la messa della domenica mattina, hanno ceduto il convento con la formula dell'usufrutto. La Fondazione Santa Rita si accolla dunque tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla proprietà. C'è una grande collaborazione con i Cappuccini, spiega Roberto Macri, presidente. Loro hanno sondato il terreno per individuare nella diocesi qualcuno che potesse essere in qualche modo interessato all'immobile e da lì è nato tutto. Il convento ha tutti i requisiti. Abbiamo visitato la struttura che è molto bella, dice Macri. La collocazione è strategica perché è molto vicina al centro e c'è possibilità di parcheggio. Presto avvieremo i lavori di ristrutturazione per poi trasferire diverse attività che sono in espansione e che dunque hanno bisogno di spazi più grandi rispetto a quelli che occupano attualmente. Stiamo valutando se trasferire anche gli uffici amministrativi per alleggerire la sede storica di Piazza San Rocco. Insomma, per la Fondazione Opera Santa Rita notizie positive. Nel marasma generale, continua il presidente, i nostri bilanci sono in salute e il quadro è positivo, tanto che ci siamo concentrati su questa nuova operazione.